I carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Salerno, a seguito di un'ispezione eseguita con personale dell'azienda sanitaria locale, hanno disposto alla chiusura di un supermercato sito proprio nel capoluogo di provincia. Sono state rilevate gravi e diffuse carenze sia igienico che sanitarie che hanno reso necessarie all'adozione del provvedimento d'urgenza. Le criticità più rilevanti sono emerse nell'area dedicata al cibo per animali, con presenza di trappole per infestanti e roditori non controllate da tempo, sporco pregresso sulla pavimentazione e sui ripiani dei prodotti esposti e mancanza di idonee procedure per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti, tutto ovviamente obbligatorio. L'attività potrà riaprire quando e solo se saranno rispettate tutte le norme igieniche.